La mia città, Vittorio-Veneto, è una città progressista. Perché sin dal suo statuto si è posto il tema della parità di genere, dell'inclusione sociale e delle opportunità per gli uomini, ma anche per le donne. E' perché è stato istituito nel 2015 il nuovo centro antiviolenza. Nel 2016 sono state 192 le donne che si sono rivolte al centro e nel 2017 sono state 259. Ora il comune non lascia più sole queste persone, ma le supporta grazie a questa struttura che finalmente c'è. Perché crea in il valore che hanno nelle associazioni di donne per mantenere e strutturare i territori in azioni urbano e rurale della nostra regione. Una regione compromettiva con eliminare qualche tipo di maltrato contro le donne. La regione è stata una regione che investe in parità e una regione che dà più opportunità a tutti i cittadini, dà più inclusione sociale e più qualità della vita. L'unico che si sta in parità di internazionale donne. Vre donne che possono fare. Vre donne che possono fare. Vre donne che sono molto importante. Ci sono persone che mi chiedono se come una regione che sono per la bambina che stanno dalla bambina, che avrebbe un'altra regione che ci siamo in oggi? E' ovviamente, le stanno! Perché noi donne usiamo le stessi a diverse regioni. Le stessi sono davvero di stessi. Buon otto marzo! Anche impegniamoci continuamente con i nostri governi progressisti a fare la differenza.